dai è realistico dai vogliamo il dominio realistico lo rivogliamo carava in te era bello ma completamente realistico deve essere proprio senza indicatori senza niente al massimo quelli della salute a parte che tanto me ne accorgo bene o male no non è vero non te ne accorgi per cazzo perché sei senza indicatori in beni niente c'è la cosa dall'alto c'è la cosa dall'alto si dici l'inglese qual'è il problema allora quindi abbiamo detto quindi abbiamo detto aspetta aspetta non così senza hd ok not this mod but another for try harder gamers se però me lo fa mettere che non me lo fa hai perso la zona c'è baggato sì sì vai ora si divertì ma su B eh hanno B loro? sì hanno loro B però così non vedo quando ti buttano da sopra non vedo niente hai perso la zona c bravo allora il tuo cosa hai catturato la zona c dove stai tu? tu che personaggio hai? ok di me mi sono messi a zona ok quindi stiamo qui sotto secco stacca ho sentito uno che faceva una notte così non vedi niente sei proprio quella cieca giochi non sai dove arrivano non sai nulla stai bene con i suoni mi è chiaro stai dove con il condottiero? dove arriva la nappe? stai hai catturato la zona A stacca no ce trattavo aspettavo un colpo di quelli c'è stato un altro fuggiero eh si scusami quanta vita c'ha il c'è stato un altro fuggiero che cosa ho qui tanto non mi muovo dalla zona mi difendo la zona hai perso la zona C hai perso la zona C ok c'è un problema ora in pratica io quando ho più i danni se io c'ho tipo due tacche io in pratica no me ne capito nel senso io non vedo quando vado a vita rossa quando è che vado a vita rossa? quante tacchi devi avere due? quante tacchi devi avere? minimo cioè massimo quante tacchi hai quando sei a vita rossa? ok quindi quando c'è meno di due tacchi ok va bene oh ragazzi iscrivetevi al canale for the time to the channel come on and then go to the sovini channel and my friend warlord that play like me without 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 indicator bravo ok marotondo perry hai perso la zona A ehm io ragazzi vi ricordo che noi noi io e Stovini siamo senza HOD tutti gli altri ce l'hanno l'HOD eh quindi quelli che morono ce l'hanno l'HOD quindi quelli che morono ce l'hanno l'HOD just me and my friend Stovini are without indicator without indicator of the match of the health without the attack indicator not but but and but and 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 i got a gabry shark ok tutto se capisce allora gabry lo conosco oh thank you for the follow afro ninja here you are the leader of the Anthony clan no he's the leader yeah ok ok to there you are ok 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 oh 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 it's a double thank you afro thank you bro oh ed ho fatto una doppia it's a double for me without indicator i'm a try harder mod do you like what do you see in this channel afro yes i'm a 70 ramosh i'm a 70 ramosh 70 ramosh 70 ramosh hulk it's right it was beautiful thank you bro oh no 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 dove è? ok, è da... lol lol il venga è a pitch challenger right now con no ui, yes no i'm dead scovica i tried